In movimento, in prima fila 1, Vireo, Jet, Elena Villani, 2, Fonwaisa, S, Federico Rescio, 3, Benedetta, FS, Ivo Amodio, 4, Aristeo, Caf, Giuseppe Franco, 5, Unvero, HBD, Fabio Esposito, 6, Vittorio Norfroa, Michele Immobile, 7, Top Gun America, Antonio Vittiello, 8, Zarnicola Ierre, Lucio Curato, in seconda fila 9, Ziguli dei Greppi, Nicola Del Rosso, 10, Bonetto Star, Giuseppe Coppola, 11, Bon Jovi Jet, Alessio, Ferrara. La macchina che prende graduale velocità Si ritrae Zarnicola Ierre Stacco della macchina Partiti L'errore di Aristeo, Caf, va in avanti, Benedetta, FS, all'esterno, Victory, Norfroa, Lungo Ibirilli, Vireo, Jet, Parkeggia, Fonwaisa S, rimane a largo, un vero HBD, il lancio in 14, appena abbondante Benedetta, FS, in vantaggio Con alato, Victory, Norfroa, quando si è al completamento del primo quarto di gara Passato dalla testa dell'ordine del 29, appena abbondante Davanti alle tribune, Benedetta, FS, Victory, Nordfroa, che sono avvicinate a largo da Bon Jovi Jet, che va a lungo in terza corsia Quando si è al completamento dei 600 in 44 e 8 Si ritrae Bon Jovi in schiena Victory, Norfroa Seconda curva con Benedetta, FS, in vantaggio nei confronti di Vireo Jet Aria in faccia C'è sempre Victory, Norfroa Poi Lungo Ibirilli, Fonwaisa S La mossa in mezzo alla pista, Ibonetto, Star in terza corsia Che si propone a lato di Bon Jovi Jet Completamento del chilometro con Victory, Norfroa Che va a attaccare e sopravanzare Benedetta, FS 1'14 e 1'1000 iniziali della testa Li a tiro c'è Bonetto, Star Si avvicina anche Top Gun America Quando si è all'imbocco della piegata finale Victory, Norfroa è passato sul calo di Benedetta, FS Deve replicare a Bonetto Star l'errore di Victory, Norfroa Dopo il 14 della dritta Ila 1'28 e 2 i tre quarti miglio Con Bonetto Star in vantaggio In seguito da Top Gun America Di dentro Vireo Jet I tre avventaglio a 200 metri scarsi A conclusione Vireo Lungo Ibirilli Che rientra a Bonetto Star E Top Gun America Vireo Jet The Queen E' sempre lei, Vireo Jet Che vince al secondo Top Gun America Al terzo termina Bonetto Star 1'57 e 6 Il totale 1'13 e 6 La media al chilometro Paga a stare lungo Ibirilli nella prima parte E trovare da correre al momento giusto Vireo Jet Elena Villani Che ne è anche ovviamente la proprietaria Per l'allenamento di Papà Vincenzo Il numero 1 sul tabellone al primo posto Vireo Jet Che viene a vincere a Grossa quota 10 contro 1 Presso i vari provider Al secondo Top Gun America Al terzo Bonetto Star 1'7-10 Il probabile ordine di arrivo Della seconda in Napoli 1'13 e 6 Per chi vince Sì